Buonasera a tutti dal vostro bio, sempre qui su Shadow Gaming Channel, che è lieto di annunciarvi quali saranno i prossimi titoli che metterò tramite un giveaway. E sono quelli che leggete qui sopra, scritti qua sopra, in sovrimpressione, quelli che scorrono. E sono Batman Arkham City, Duke Nukem Forever e Ultimate Marvel vs. Capcom 3. Sono tre titoli molto belli, veramente molto molto simpatici da giocare, specialmente secondo me Duke Nukem Forever, veramente fantastico, e anche Ultimate Marvel vs. Capcom 3. Questi giochi saranno messi uno dietro l'altro, proprio uno dietro l'altro, preannunciati da un video che metterò su questo canale, con tre giorni di anticipo. Durante la live pomeridiana, si trarà ovviamente pomeridiana, dell'annuncio, di quando saranno annunciati, durante la live pomeridiana vi verrà dato occasione di vincere a estrazione uno di questi giochi. Si partirà da Duke Nukem Forever, per poi passare a Ultimate Marvel vs. Capcom 3, e poi Batman Arkham City. A raggiungimento di 20 followers durante questa live, io darò la possibilità a ognuno di voi di poterla vincere, di poter vincere uno di questi fantastici giochi. Vi ricordo tutti quanti che a raggiungimento dei 250 iscritti ci sarà Batman Arkham Origins, a raggiungimento dei 300 iscritti, oltre al gioco, che dovrò ovviamente sceglierlo, ma probabilmente sarà The Witcher 2 o The Witcher 3. Devo ancora vedere bene quale dei due posso avere a disposizione. Oltre a quel gioco lì, se entro questa domenica si raggiungeranno 300 iscritti, io metterò la settimana prossima un giveaway per una key di For Honor. Ricordatevi ragazzi, se entro questa domenica si raggiungeranno i 300 iscritti, la settimana prossima io metterò a disposizione, a estrazione, una key di For Honor per PC. Quindi ragazzi, vi rimando a tutte le mie live, seguitemi sempre, seguite le news, spero di farvi sempre divertire e che questi miei doni, che ripeto, sono di tasca mia ragazzi, di tasca mia a voi, vi possano rendere felici. Arrivederci, ci vediamo questa sera sempre qui, su Shouting Gaming Channel, con la live serale.